Scegli il nome giusto e poi, se sei fortunato, il personaggio apparirà. Mmm, non è ancora qui. Screntish Scrammer. Avanti, Scramge. Avanti, su, vecchio peccatore. Scrooge. Non perdiamo tempo. Il tempo è denaro. Signor Scrooge, è un vero piacere conoscervi. Non posso dire altrettanto. Non siate così scostante. Dovremmo essere amici. Non ho amici, non mi servono. Ah, naturalmente. Ci sono, facciamo un gioco. Non mi piacciono i giochi. Oh, secondatemi. Che cosa ne pensate quando dico la parola... oscurità? Economica. Amore. Raggero. Denaro. Sicurezza. Bambini. Inutili. Casa lavoro. Utile. Natale. Natale. Esatto. Via, via, via! Oh, Dio!